spessissimo capita che qualcosa di molto amato molti anni prima una volta rispolverato non superi la prova del tempo e dunque viste delle riconsiderazioni non sia più percepito con lo stesso valore che potesse avere all'epoca e qui è così se non sono proprio un burlone che nel 1986 è uno dei miei film preferiti in assoluto ma non dell'animazione proprio film lungometraggi nonché tratto da uno dei miei manchi preferiti della vita passato presente futuro che più invecchia e meglio è si pure il mango va a fanculo io non me ne prega un cazzo non mi spiace manco la seconda parte nella terra degli shura che mezzo mondo di girellari ci caga sopra ma questo film sono più che sicuro sia uno dei pinnacoli assoluti che mai abbia toccato l'opera di bu ronson e tetsuo ara pellicola che da noi peraltro arrivò pressoché intonsa o comunque la versione meno censurata del mondo perché se non ricordo male il contratto venne stipulato andando direttamente a rendere conto a tuoi e non con società inglesi tramite che come ben tutti sanno sono il male assoluto quello di ken 1986 è un ottimo esempio di come poter riadattare riproponendo una delle epopee più celebri del sol levante che conoscono veramente tutti ma proprio sia cani che porci anche perché non è un copia in colla della storia originale ci sono delle leggere modifiche piccoli cambiamenti quelle scelte stilistiche oltre che le licenze poetiche che non vanno a ledere la qualità generale anzi vanno proprio ad arricchire creando un'unicità e questo perché perché regia e cara design sono veramente qualcosa di ineccepibile registicamente un ottimo compianto toio ashida e il mai abbastanza mancato cui questo video in realtà è fondamentalmente un omaggio maestro masami suda che ne ha curato sia la supervisione dei disegni che cara design alla fine della fiera potrei quasi dire di averle preferite rispetto alla serie storica i cui pezzi grossi dello staff sono stati travasati su questo progetto all'epoca no forse ripensandoci l'unica pecca proprio tra mango e film è l'assenza di uno splendido panel ma va bene in realtà con tutto quello che c'è passa proprio in secondo se in un settimo piano che comunque in due orette hanno adattato una settantina di capitoli giù di lì quindi il loro l'hanno fatto soprattutto visto e considerato che si sta parlando di una delle gemme più raffinate del suo tempo dato che ci sono attenzioni capillari che soltanto l'epoca del tradizionale puro e crudo poteva avere come ad esempio alcuni fondali creati solo a matita per alleggerire la composizione i colori a olio belli carichi in modo tale da pesantire l'atmosfera e gli acetati gli acetati che nonostante le tinte più scure della norma se le principali in primis vanno meravigliosamente a incastrarsi nelle armonie visive più piacevoli che il cervello non ancora esploso può mai fisicamente ribaltare dalle retine il cara design del maestro suda peraltro è imperterrito a portare degli standard pressoché inarrivabili sia nel franchise di ken ma pure nell'animazione giapponese innalza il livello qualitativo degli apici che difficilmente si sono rivisti nel tempo e ancora oggi è estremamente complesso anche soltanto il pensare di raggiungerli chiaramente il budget ha aiutato perché i film sono i film certo è che se parti dal presupposto di avere una colonna portante dell'animazione giapponese alla base del tuo staff sicuro qualche vantaggino c'è ma meglio tornare sui binari ora è per sempre mai scorderai l'attimo la terra che tremò l'anno il 1990 x il mondo fu sconvolto dalle armi nucleari tuttavia la razza umana era sopravvissuta in un'ambientazione che come sempre prende non tanto a piene mani quanto più con una vanga di estetica e filosofia ma senza la benza di mad max di miller anche qui vige la legge del più forte in lande desolate dove non esiste più la società come la conosciamo e i deboli vengono martoriate dalle iniquità degli uomini malvagi panca bestia più piazzati di un reparto armali dell'ikea in questo benvenuto di tempi pazzerelli due scuole si ergono al di sopra di questa non società allo sbando la divina scuola di okuto e la sacra scuola di nanto che mai mai dovranno incrociare i pugni altrimenti sarà la fine del mondo ma considerando che in tal caso il film sarebbe finito alla prima scena anzi alla prima scena botte se ne tireranno a yosa e non solo loro trattandosi di un'epoca basata sui conflitti il tempo di togliersi da polveri di dosso e via ad appienare nuovi screzzi puntualmente kenshiro risolverà la situazione davvero gentiluomo con la tecnica segreta della diplomazia di okuto che consiste in una bella centra in faccia giustamente ken è universalmente conosciuto per essere tra le serie più violente che esistano e con la premessa di due scuole di arti marziali dove una fa un tucatucas coppirello e l'altra specializzata nel sashivi di persone mi sa che non si sfugge immancabile l'apertura con kenshiro che sta amabilmente passeggiando con l'amore della sua vita immensamente giulia per le lande desolate di un mondo annichilito dalle atomiche quando shin della sacra scuola di nanto decide di fargli la gentilezza di regalargli l'appellativo più sgaso degli anni 80 bucandolo con una manina un po troppo affettuosa e purtroppo rapendo giulia ma progredendo la trama durante questa simpatica riunione si vede anche da lontano come due dei fratelli di ken stiano assistendo alla scena soprattutto rao asserendo assoluta dominanza e dopo del sano burronismo cortese omaggio del buon vecchio jagger si parte di lì in poi kenshiro vagabonderà delle suddette lande desolate desolato da solo in cerca di vendetta da buon successore della scuola più del basta che sia mai esistita in 2000 anni scaricando la tensione spaccando palazzi attestate facendo volare gente a suon di centri ma non sarà sempre un lupo solitario incontrerà bark l'orfanello teppistello e salverà lin la bambina con mutismo selettivo causa trauma di essersi vista ai genitori uccisi davanti rei nartro de nanto che è uno dei secondari più amati della storia dell'editoria giapponese e ha ragione poco ridendo ma molto malmenando quanti gli si parlano davanti intenzionati a ucciderlo kenshiro prosegue salendo le scale andando incontro al suo destino l'archetipo assoluto dell'eroe virile con tre chili di sopracciglia la cui sua forza maggiore ancor più dell'orsa è la forza di cadere sapendo rialzarsi senza mai perdersi d'animo crescendo di scontro in scontro portando con sé il cordoglio in una mano e la speranza nell'altra facendo tesoro del sostegno degli insegnamenti che solo i legami intessuti nel logodio di una vita atta alla deflagrazione altrui possono dare d'altronde fondandosi su due o più scuole che nel guerriero è un'opera che lascia inestimabili lezioni perché una delle più grandi che darà sempre l'opera di bronzo nei tezuhara è che nonostante tutto possa sembrare perduto in un mondo arido dove tutti saltano alla gura del prossimo sia per oppressione sia per disperazione comunque attingendo al valore dell'amore dell'amicizia del perdone dell'inaudita violenza allora tutto il mondo può tornare a fiorire ma poi santa merda una certa c'è la band che ha curato i brali del film che ti parte con una mv che cazzo vuoi che cazzo vuoi di più ciao ciao Grazie a tutti.